Eccoci qua ragazzi a un'altra recensione, che cosa andiamo a vedere oggi? Oggi andiamo a vedere questo oggettino, come vedete macchiato Street Fighter 2 Championship Edition. Questo prodotto non è altro che un Fight Stick di Street Fighter 2 del Replikade, che voi avete già conosciuto con altri miei video, con appunto il portachiavi, quello a forma di pulsanteria dove si inserivano le monete, e il minicabinato di Tempest. Questo invece è un'altra cosa. Siccome la New Wave Toys produce con questa marca Replikade tutti quanti dei minicabinati, tra questi vari minicabinati c'è anche un minicabinato di Street Fighter. E questo qui è il suo ministick. Adesso andiamo a vedere un attimo come funziona. Allora, il cabinato di Street Fighter io non ce l'ho. Però, cosa ha di particolare questo? Che, andiamo a fare l'unboxing, calcolate che comunque sia, questo l'ho riposto io, ovviamente l'unboxing l'ho già fatto, ho già testato tutto. Qua troviamo al suo interno un cavetto USB con mini USB, è questa appunto la cosa micro USB. La cosa che vi dicevo interessante è che appunto, avendo un'uscita USB, lo potremo utilizzare nei nostri vari Raspberry o sistemi operativi, quali appunto anche Windows, con i nostri vari emulatori. e questo è il nostro mini joystick arcade. Si presenta proprio come la plancia, ok? La vecchia plancia del cabinato di Street Fighter, Street Fighter 2, Championship Edition. Come vedete la manopola è di quella a pera. Sul sotto, vedete, è licenziato Capcom, ok? Capcom, licenziato New Wave Toys. Made in China. Come ripeto, si tratta comunque di un prodotto, sì, made in China, ma non cheap. Quindi non una cosa economica fatta male. Si vede che c'è dietro un controllo qualitativo, ok? Perché l'azienda New Wave Toys è americana. Fa produrre in Cina, ma è americana. Abbiamo la nostra dotazione di sei tasti. il pulsante 2Player che fungerà da Start e la nostra, appunto, leva a pera. E come sentite? Tutti i pulsanti sono dotati di microswitch. Quindi, insomma, questo prodotto è davvero, davvero ottimo. al tatto, anche se vedete, è veramente piccolo. Qua sopra, ok, c'è il connettore micro USB che noi andremo a collegare. Il cavetto, ve lo dico subito, è abbastanza corto. Sarà probabilmente un metro, ok? Però, ovviamente, potete utilizzare un qualsiasi connettore micro USB e sarà compatibile. Quello in dotazione, però, è piccolo. Cioè, è corto. Andiamo a vedere un attimo come si comporta questo oggetto, per esempio, con il nostro Game Hat, ok? Perché? Perché il nostro Game Hat ha qui le classiche uscite USB del Raspberry e andiamo a connetterlo, quindi. Andiamo a vedere un attimo se è compatibile e come funziona. Spostiamo il cavetto, cerchiamo di metterlo il più comodo possibile. Vediamo se riusciamo. Ecco, lo facciamo passare qua sotto, così riusciamo a vedere tutto quanto. Eccoci qua. Allora, come vedete, viene visto immediatamente il nostro joystick. Ok? Non è stato precedentemente configurato, perché già automaticamente viene visto come un joystick. E anche i pulsanti sono già tutti quanti preconfigurati. Adesso, io personalmente sono già andato qua dentro, nelle impostazioni, a sistemare i pulsanti, perché volevo che i pulsanti rispondessero in modo come appunto devono essere. Ma andiamo un attimo a vedere il nostro Street Fighter, allora, che così vediamo un attimo come si comporta. Eccolo qua. Cerchiamo la Championship Edition. Street Fighter. Non ce l'ho. Vabbè, utilizzeremo il Turbo. L'assist KnowingI estrella. Vabbè. Non ce l'ho. Xайн Adolfato. Non tu lo. Non ce l'ho. Non ce l'ho. Non ce l'ho. Non ce l'ho aderero. Non ce l'ho. Non ce l'ho. しょう alvisione. Non ce l'ho ovo. Non ce l'ho. eccolo qua come vedete andiamo un attimo ad alzare il volume che così potete anche sentire un po l'audio eccoci siamo riusciti a alzare il volume e adesso andiamo appunto a vedere un attimo il funzionamento qua ho dovuto cambiare il mettere la pulsante di a coin qui e lott key cioè coin qui e lott key qui quindi i pulsanti blu non sono utilizzabili perché perché se questo è il pulsante start grave difetto di questa mini plancia è che manca un pulsante coin questo perché perché nel mini cabinato di street fighter il pulsante coin ce l'ha la plancia principale e e quindi appunto non era necessario aggiungerlo qui ricordiamo dobbiamo ricordarci che questo è unicamente un joypad aggiuntivo per quella plancia lì ma io vi faccio vedere che funziona funziona anche su su altri sistemi quindi andiamo un attimo a vedere il suo funzionamento come vedete la ducan viene perfettamente poi io non sono bravo con street fighter però il joypad funziona perfettamente proviamo andare a vedere un attimo come si comporta comunque va proviamo a vedere un attimo come si comporta con altri emulatori quali emulatori richiedono quattro tasti beh neo geo neo geo secondo me è il più indicativo da questo punto di vista andiamo con metal slug e vediamo un attimo come funziona ecco qua quindi salto sparo granata e vi devo dire che incredibilmente è anche comodo da utilizzarsi nonostante sia veramente vilipuziano come joystick è davvero molto molto comodo non l'avrei mai detto eppure mi ci sto divertendo molto preciso come vedete molto preciso come vedete quindi gravi difetti di questo joystick quali sono i gravi difetti di questo joystick sono appunto la mancanza del tasto coin che ci impedisce di poterlo sfruttare a pieno in tutta la sua pulsanteria a meno che noi non andiamo a usarlo come secondo giocatore quindi secondo giocatore start e ci basta il primo giocatore andrà a occuparsi di quello che riguarda l'uscita eccetera eccetera e allora lì abbiamo tutta la palette di tasti utilizzata e questo era un difetto l'altro invece difetto che ho riscontrato in questo joystick è che una volta che mi è arrivato purtroppo presentava praticamente i tasti appunto se voi sentite adesso andiamo un attimo a staccare questo perché sennò continua a collegarsi e a schiacciare i pulsanti se voi sentite il rumore dei tasti è è il medesimo praticamente ora quando sono andato ad acquistare questo oggetto qui questi tasti suonavano bene appunto il microswitch funzionava senza nessun problema questi tasti invece leggermente scendevano alla pressione ok? una volta che schiacciavi sentivi sì il microswitch ma sentivi che c'era qualcosa tipo che rimbalzava all'interno sono andato così a rimuovere i piedini quelli inferiori per cercare di capire cosa come mai ci fosse questa specie di rumore di tipo molleggiato all'interno l'ho rimossi ho tolto le viti ho svuotato ho aperto questa questa base e ho scoperto che praticamente la PCB del joystick quindi il la base di questo joystick è collegata unicamente in questo punto quindi c'è una vite qui di conseguenza questi pulsanti rimangono belli solidi quando si va a fare pressione su questi tasti invece questi la base inferiore affonda quindi la base quella del joystick affonda quella interna e quindi man mano che si schiaccia si piega la PCB interna la scheda ho dovuto quindi posizionare perché? perché questa parte è vuota ok? questa parte è in questa parte questa è pesante perché questa parte c'è una sorta di peso in piombo e quindi è piombata ma il resto è vuoto quindi sono dovuto andare a posizionare in questa zona delle molle rigide che spingessero una volta che è stata rimessa la base inferiore mi spingessero la PCB verso l'alto cosicché ora quando schiaccio non c'è nessun rischio che questa affondi ecco questo è a mio parere è un difetto da tenere in considerazione bellissimo oggetto molto fatto bene davvero fatto bene questa parte all'interno mi ha lasciato un attimo un po' così però se calcolate che questo prodotto si trova per 13 dollari beh è pochissimo lo ordinate per una decina di euro praticamente per una decina di euro vi portate a casa questo dovete poi calcolare le spese di spedizione però se contattate i produttori di New Wave Toys trovate di sicuro una soluzione è un bel prodotto un bel giochino appunto per una decina di euro ci sta tutto questo difetto qui è quello che mi ha dato più mi ha creato un po' più disturbo la mancanza del tasto coin si però si può sopperire con questi due tasti e utilizzare solo questi o se no fate anche un layout di questo tipo utilizzate questi due cioè insomma qua poi potete giostrarvela come preferite io vi dico come prodotto lo consiglio per una decina di euro è fatto bene è pratico e insomma si vede che c'è della cura che non viene riposta in altri tipi di prodotti magari di anche marche più blasonate questo è su licenza capcom però paradossalmente per dirvi la qualità costruttiva è migliore del capcom arcade stick o arcade si scusate capcom home arcade quindi insomma prodotto ufficiale prodotto da capcom questo qua fatto meglio e niente con questo è tutto vi lascerò il link per l'acquisto sotto questo video se vi è piaciuto il video mi raccomando mettetevi piace e iscrivetevi al canale che trovate qua il il link appunto dove potete iscrivervi al canale e noi ci rivediamo a un prossimo video ciao a tutti